Un augurio a Liberos, una grandissima attività, un gesto rivoluzionario e tutto il mio appoggio perché c'è bisogno di una rivoluzione nel mondo del libro e anche di una proposta forte appunto come Liberos, augurissimi. Beh, ho visto adesso, mi ha fatto vedere anzi Michela Murgia che mi ha sorpreso un progetto formidabile che ha un unico enorme difetto che ha limitato la Sardegna perché bisognerebbe stenderlo a tutto il mondo per la verità e quindi arriva a Sardegna a Ombres Liberos.